Anche se quando si parla di listini si va in ordine cronologico, io comincerei la nostra intervista da quella stellina che vedo sul rever della tua giacca. Che cos'è? È la stella di Revenge, che è il titolo che uscirà il 6 di settembre in sala. Questa stellina è il segno caratteristico che ha Matilda Lutz, che è l'attrice protagonista. Film molto intenso, che tratta di uno super femminile e quindi è ovviamente di un Revenge, che è il titolo del film, quindi di una vendetta. Però è trattato in un tema molto particolare, proprio perché la regista è una regista donna, che secondo il nostro punto di vista ha fatto un capolavoro, perché è un film che sicuramente, seguendo almeno tutti i critici europei che hanno già visto il film, rimarrà nella storia per la qualità estrema di questo film. Allora torniamo indietro adesso, a luglio, all'11 luglio, in cui arriverà il vostro primo titolo del nuovo listino. Sì, questo è un titolo a cui teniamo moltissimo perché è una scommessa che abbiamo accettato nei confronti dell'esercizio, dove si lamentavano giustamente che durante luglio-agosto, della totale assenza di un'animazione. Quindi abbiamo selezionato un'animazione molto fresca e decisamente ben fatta, che appunto è Luis e gli alieni, che uscirà l'11 di luglio. Crediamo moltissimo in questo film perché è molto divertente, l'empatia nei confronti dei tre personaggi è immediata, dopo un secondo abbiamo fatto qualche test screening e i bambini adorano questi personaggi. Ed è una nostra offerta estiva di animazione, ripeto, a cui teniamo moltissimo. E poi arriva Nicolas Cage. Arriva Nicolas Cage in Io, Dio e Bill Laden, che è dal regista di Borat, il dittatore, quindi siamo ovviamente nell'ambito della commedia Sopra le righe, dove c'è questo personaggio americano che esiste realmente, che aveva deciso di andare a uccidere Bill Laden a mani nude e ogni volta, con tentativi rocamboleschi, è stato preso e rimandato negli Stati Uniti, quindi è una storia veramente molto divertente. E soprattutto Nicolas Cage in questo ruolo di commedia, inedito, nel senso che tantissimi anni fa ha fatto commedie, era tanti anni che va sempre una pistola in mano, questa volta invece è molto molto divertente. E poi come proseguite la stagione? Proseguiamo la stagione appunto, Revenge ne abbiamo già parlato, abbiamo in ottobre un'altra animazione molto importante, che è l'Ape Maia, le Olimpiadi di Miele, il nuovo episodio dell'Ape Maia in 3D, molto divertente perché questa volta si aggiungeranno una serie di character molto divertenti, quali le formiche, tutti gli antagonisti che ci sono all'interno di queste Olimpiadi, che vedranno il cartone animato sempre rimanendo fedele alle linee di guida dell'Ape Maia, essere molto più divertente, molto più veloce, e anche per un pubblico non solo prescolare ma anche leggermente più adulto. Quindi questa è l'uscita di ottobre che sarà in contemporanea al lancio di tutta una serie di attività di merchandising e visibilità che vedranno coinvolte oltre 40 licenziatari sulla Ape Maia, quindi anche su questo ci aspettiamo un ottimo risultato. E la Casa delle Bambole, invece siamo nel genere dell'horror? Siamo nell'horror puro, genere horror puro, Pascal Lugier è il noto regista francese di horror, la Casa delle Bambole uscirà a novembre, il titolo è un titolo che già ovviamente spiega l'ambientazione, nel senso che tutto si svolge all'interno di una casa ricca e animata da bambole. Siamo proprio davanti al classico horror con un twist inimmaginabile che è al centro del film, dove occorre qualche minuto per capirlo, ma farà apprezzare questo film in un modo particolare. Una delle chicche del vostro listino è sicuramente il ritorno di due personaggi che molti hanno amato, molti che non sono più giovani o anche comunque i giovani, che sono Kenny il Guerriero e Lamu, ecco parliamo di questi due film. Sì, sono due eventi, uno che andrà al cinema a fine settembre e un altro a novembre, appunto Kenny il Guerriero è un grande ritorno in HD, per la prima volta in HD al cinema, è una vera e propria reunion, perché questo è un cartone animato che ha oltre un milione di fan in Italia, ha fatto crescere una generazione e crediamo moltissimo a questo evento, che per noi sarà particolare perché faremo uscire una serie di edizioni non video in ottobre e distribuiremo anche il videogioco di Kenny il Guerriero, quindi sarà un'attività a 360 gradi su Kenny. Lamu invece è il grande ritorno, quindi abbiamo scelto su queste due uscite un protagonista maschile, video uno femminile, la data di uscita è prevista a novembre, ancora una volta in HD, sarà appunto un titolo inedito, non è mai uscito e quindi su questo puntiamo veramente molto.